Chi potrebbe essere un futuro ciclista in grado forse di poterci portare di nuovo in alto? Sono già qualche anno che manca un ciclista di riferimento e non si rivede, al momento non c'è nessuno all'orizzonte che ci possa far sognare che ci sia un cambiamento. Non lo so, io spero che questo ciclista che ci possa riportare in alto magari oggi abbia 12 anni e quindi sia lì che cresce, però è veramente difficile risponderti, sicuramente questa cosa la stiamo sentendo tanto a livello di movimento ciclistico, perché è ovvio che in Italia in questo momento non ci sia a livello popolare una grande attenzione nei confronti del ciclismo, anche se secondo me, anzi non secondo me, secondo tutti, è un peccato perché quello che stiamo venendo adesso è uno dei momenti più belli della sera del ciclismo.